Doppi anche il trailer, la scena più famosa del film, penso che le domande già che ti hanno fatto siano a proposito di questo. Hai visto il film un altro personaggio che ti sarebbe piaciuto doppiare? Devo dire la verità, ah beh ce ne sono tanti, mi piacciono molto i due siciliani, cioè Leogullotta e Teresa Mannino perché in particolare Leogullotta fa una specie di padrino, se vogliamo, che è il mio film preferito, uno dei miei film preferiti, nell'Olimpo proprio, quindi sì, quello mi sarebbe piaciuto moltissimo, però devo dire lui è perfetto, no? Perché è proprio borbonico di natura, è così, è fantastico, devo dire. E grazie. Tutti gli altri, devo dire tutti i talent, ma non lo dico per essere ecumenico così, però tutti i talent hanno un ruolo caratteristico e che calza a pennello. In particolare? In particolare quel toscano, come ha detto mia figlia, è bravo quel toscano con le mosche sulla testa, ha detto. Molto bravo quel toscano, e poi ha aggiunto, chi è? Perché non l'ho mai visto, è Paolo Ruffini. Ti ricordo facevi una trasmissione comica. Che cosa, esatto. Grazie. Più invidiato, tutti si vuole a fare bravi. Più invidiato, vedi, e poi alla fine, boi adè, ecco, e quindi questo. Grazie, grazie anche a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.